Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Ipsos di oggi sabato 29 giugno 2024 sul Corriere della Sera. Qual è il livello di gradimento nei confronti della Premier, Giorgia Meloni? I voti positivi da 6 a 10 dicono 40%, voti negativi da 1 a 5 dicono 49%, chi non sa non indica è l'11%, mentre l'indice di gradimento sale dal 44 al 45% ed era cominciato con il 49 al 7 settembre del 2023. Grazie a tutti e arrivederci. A presto. Grazie a tutti.